Ciao a tutti, sono Gnagno, lo chef del ristorante La Crosè. Oggi andiamo a fare filetto di sgombro con pane e rape. Gli ingredienti sono, rape sbollentate, sgombro, pane raffermo, aglio e maggiorana, olio extravergine d'oliva. Stiamo in forno 5 minuti 170. Grazie a tutti. In forno 4 minuti 220. Il nostro sgombro pane e rape è pronto. Buon appetito!